Ciao ragazzi, con questo video messaggio volevo salutare tutti gli amici rossoneri che mi seguono e i tanti Milan Club che abbraccio durante la stagione, augurando tutti voi un sereno Natale. Ecco, e questo forse è il miglior acquisto, se proprio vogliamo per affrasare il calcio, che si possa augurare alle nostre famiglie, serenità, una vigilia, quella al quale ci stiamo avvicinando e soprattutto un Natale passato insieme ai nostri cari, a chi si vuole bene, guardandosi negli occhi e cercando di comunicare, cosa che è sempre più difficile in questo periodo, che ci distanzia forzatamente. Ecco, mi auguro che questo finisca presto e che tutto torni alla vera normalità, quella che ci faceva abbracciare allo stadio, ci faceva abbracciare in tutte le situazioni di vita quotidiana. Però, siccome parliamo di Milan, non posso, essendo Natale, lasciarmi senza un regalo e visto che mi occupo di mercato, ho appena intercettato una notizia. Abbiamo preso un bomber della Madonna e allora volevo dirvelo, ve lo dico, uno, due, tre... La signora... Mereza!